La macchina entra nella retta delle tribune, parte piano, Sinnai lo stacco in questo istante, Sakila all'attacco di Samba, Samba non molla, Sakila mette mezzo cavallo avanti alla rivale, più all'esterno Sandro degli Ulivi in corda, scheggia Rad, prima curva, Samba alla corda, Sakila all'esterno, Samba ha difeso la posizione, Sakila ripiega su scheggia. Poi Sandro degli Ulivi, Swayad della Luna, Spritz Holtz, Saturno AMG, 200 iniziali in 15 spaccato. E ora il quarto completato da Samba in 31 e 6, palli che vanno ad affrontare la seconda curva, Samba al comando, Sakila di rincalzo, Swayad della Luna che risale all'esterno, in corda scheggia su Sandro, a largo viaggia anche Spritz Holtz, al seguito di Swayad, e si porta presso Saturno, il gruppo è chiuso a Sinnai, il passaggio di fronte alle tribune, sul piede dell'1.30 la seconda curva, passata in 18 da Samba. E ora gli 800 coperti in 1.5 e mezzo, si va all'imbocco della penultima curva, Samba al comando, Sakila di rincalzo, Swayad all'esterno, poi scheggia con a largo Spritz Holtz, Sandro con all'esterno Saturno, quindi Sinnai, il primo chilometro sul piede dell'1.21 e mezzo, la retta opposta alle tribune, con Samba al comando, Swayad attacca Sakila, all'inserimento delle prime due, poi scheggia Samba, passa la retta opposta in 14.6, e affronta al comando la curva finale, Sakila prova a rientrare a Swayad della Luna, poi scheggia Grad, mancano poco più di 200 alla conclusione, Samba che se ne va per proprio conto, 14.6 alla curva finale, ingresso della retta dell'arrivo, Samba al comando, poi Sakila e Swayad in coppia alle sue spalle, Samba di azzura che prosegue in vantaggio e vince su Sakila per il terzo, scheggia su Sandro degli Ulivi e Swayad della Luna, aveva parlato chiaro la sgambatura di metà pomeriggio, poi le grandi ambizioni di Federico Esposito e del suo team, ovvero Eric Chebondo, si crede molto in questa cavalla, ci credeva anche per stasera e aveva ragione, Samba vince facile facile su Sakila, terzo posto a sorpresa per scheggia Grad su Sandro degli Ulivi e Swayad della Luna.